Ben trovati per la nostra edicola, la rassegna stampa con i principali quotidiani nazionali e locali. Iniziamo dal Corriere della Sera, il titolo d'apertura, migranti, l'appello all'ONU. Meloni basta ipocrisie, lotta ai trafficanti e Salvini attacca von der Leyen. Negoziato sul PNRR, fitto in arrivo altri 35 miliardi. Mattarella, le regole di Bruxelles non siano ottuse. Sbarchi, si rischia la crisi, l'emergenza, parla Luca Zaia. Il nuovo piante dosi social, il consulente Ibidio, la linea sulla Lega. L'articolo di fondo è affidato ad Ernesto Galli della loggia, la fedeltà non serve al paese, governo e scelte. Di spalla, la cronaca, battipaglia, ferita alla gola dal marito, muore a 38 anni, dissanguata. Eco, vero amico, ma io sono più intelligente, vattimo vita e ricordi. Greco, le critiche, la premier, venga all'Egizio, parla il direttore del museo. Zelensky sfida anche Lavrov, a Mosca va tolto il potere di veto. Mentre a centropagina troviamo la fotonotizia, Marduk, la caduta e l'ira, tutta colpa di Trump, il virgolettato, un virgolettato tratto dal suo libro, il tycoon, la parabola di Fox e l'odio per l'ex presidente. Di taglio basso, la consueto rubrica Il caffè di Massimo Gramellini, titolata Il babysitter, in riferimento ad una foto di Carlo Calenda con in braccio un bambino. Prima di voltare pagine e cambiare quotidiano, vediamo sottotestata un titolo di sport, Champions League, Lautaro salva l'Inter, Napoli ok la prima. Ci spostiamo su La Repubblica, anche qui troviamo migranti, l'Italia resta sola. Bruxelles gela Roma, saltati di fatto gli accordi tunisini, sono stati sospesi pure i negoziati sul nuovo patto per l'asilo. A imporre lo stop anche gli esecutivi alleati sovranisti di Ungheria e Polonia, a parte in salita il modello CPR. Meloni alle Nazioni Unite dichiarare guerra globale agli scafisti. Retroscena il doppio schiaffo al governo, scrive il corrispondente a Bruxelles Claudio Tito e ancora la storia, il ragazzo, il bimbo e la vera solidarietà. Ancora la politica, l'intervista calenda sulle riforme e sul cancellierato, un tavolo con PD e 5 stelle. Il caso Santanché nei guai, chiesto il fallimento per Key Group. Ci spostiamo ai titoli di spalla, sfida all'ONU, Lavrov, Burattino e Zelensky se ne va. Noi armeni traditi dalla Russia. A centropagina se l'intelligenza artificiale diventa umana. Amazon ha presentato la nuova Alexa, rischi per la privacy, scrive il quotidiano. Cultura, Cristian Greco, aspetto la Premier nel mio Egizio. Champions League, il Napoli vince, Salva Garcia, pareggia l'Inter. Ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Sanità, SOS, Fondi. Siamo in Puglia, l'alto là della Corte dei Conti alla Giunta Emiliano. Non è possibile prevedere la nascita di nuove ASL. Questa è una delle questioni messe in evidenza dalla Corte dei Conti che ha comunque promosso il bilancio regionale. Il commento cresce ancora il divario fra Nord e Sud. Di spalla, lì di Balneari, i veri numeri sulle licenze. L'inchiesta in Puglia ha occupato meno del 10%. La fotografia del Ministero. Centro migranti a Bari sono stati calpestati i diritti. La sentenza a Cassazione, la cattiva gestione danneggiò la città. Energia pulita a Taranto e in realtà l'impianto Shell. Ulivi monumentali e Xilella. Ecco il piano di salvataggio da destra a sinistra. Tutti pazzi per i civici, parlando naturalmente di politica regionale e locale. Serie C, calcio, esame di maturità per Foggia. E Taranto, parla Taibi, portiere goleador. Il ruolo si è evoluto. La rubrica Le idee e lo tsunami familiare dell'Alzheimer di Rossana Gismondi. Io capitano agli Oscar. E Garrone è in Puglia. Il Corriere del Mezzogiorno. Torniamo sulla Corte dei Conti. Regione promossa con riserva. Via libera dalla Corte dei Conti al bilancio 2022. Ma il procuratore critica la gestione, la relazione bene, spesa dei fondi UE, liste d'attesa, male, sanità e consorsi di bonifica. Emiliano dice io soddisfatto. Studi e pubblicazioni da primato. Politecnico della Top 15 d'Europa. L'Università. Il Rettore Cupertino dice così abbiamo superato Torino e Milano. In crescita anche l'Ateneo. Aldo Moro. L'articolo di fondo. Il sud omogeneo della ZES unica perché diventa un'opportunità. All'interno incassavano sussidio IMSS nove indagati per truffa da parte della GDF di Barletta. Anziana muore nel rogo e il figlio portato in carcere. A centropagina la fotonotizia riguarda il degrado urbano. Rifiuti e scooter bruciati. Il quartiere San Paolo di Bari ridotto ad una pattumiera. Amiu contro i furbetti della differenziata. Taglio basso. Il corso di russo che divide gli ucraini. Scuola San Nicola. Via le elezioni tra le polemiche. Scelta inopportuna. Anzi no. Garrone si gode la candidatura al premio Oscar e oggi a Bari in sala con me tanti migranti. Dice appunto il regista del film Io Capitano che sbarca al Galleria. La Repubblica edizione di Bari strisce blu il diktat dell'Amtab. Anche i cantieri devono pagare. La municipalizzata che gestisce trasporti e parcheggi ha inviato le prime richieste ai titolari di imprese edili che stanno lavorando in centro per 100 giorni. Ci sarà da versare 8 mila euro. I civici chiedono l'euro patto su De Caro. Le liste vicine a Emiliane pronte a sostenere il sindaco per Bruxelles. Dicono ma a noi il candidato per Bari. L'analisi, il nome ideale e una sintesi fra cultura e professionalità. Il sì al bilancio, ospedale Covid e ritardi sul PNRR, la Corte dei Conti e le perplessità sulla regione. La sentenza della Cassazione, migranti maltrattati, comune da risarcire. Il caso svenimenti nelle classi Pollaio, la Preside fa anticipare l'uscita. Diamo uno sguardo alle cronache locali della Gazzetta del Mezzogiorno. Mafiosi cambiate, Pinuccio e Lella Fazio, nel giorno in cui il figlio Michele avrebbe compiuto 38 anni, lanciano l'appello, il loro incontro con il killer. La BAT, truffa all'Inps, interdizione per due professionisti barlettani. L'inchiesta, nei guai un consulente del lavoro e il presidente di un patronato, contestate false assunzioni per ottenere indennità. La Capitanata, via Kennedy Stop Lavori, Angela De Sabato, Mainiero, centro rifiuti, vicino a Parco Giochi. Anziana carbonizzata, fermato il figlio per omicidio, San Michele Salentino, la tragedia si è consumata, incontrata a Angeluzzi. Voli cancellati, oggi a Roma i parlamentari del Salento. La Gazzetta di Taranto spiò nove colleghe alle poste e l'ex direttore finisce a processo. Il PM Buccoliero ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La Gazzetta della Basilicata, le commesse restino qui, paura per l'indotto Stellantis, i sindacati, la regione vincoli, gli incentivi alla produzione a Melfi. Ci spostiamo sull'edicola del Sud, edizione di Bari, acciaio senza il carbone in Europa, sì a Taranto, no ex ilva. Senza valutazione di impatto sanitario, legambiente protesta dai sindacati SOS a Meloni. Ok al rendiconto, ma la regione è bocciata su PNRR e Sanità, il giudizio della Corte dei Conti. La mossa di fitto, ZES unica, cosa cambia per il Sud? Per De Caro, prima l'Europa e poi il PD, il sindaco di Bari. Cronaca, donna bruciata, fermato il figlio, una 71enne trovata morta e carbonizzata, l'ipotesi dei PM è omicidio, il giallo di San Michele Salentino. Ancora ombre sul voto ad Altamura, sospetti sulle firme, due liste nel mirino. Corruzione elettorale, via al processo per Ferri e Dentamaro, i legami tra clan e politica sotto la lente d'ingrandimento. Quotidiano di Bari, bilancio 2022 della regione, poche luci, molte ombre sulla gestione finanziaria. Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Cosmo, Sciancalepore, significative criticità, specie nella sanità. I vigili in servizio a spettacoli e concerti li pagano gli organizzatori, non a Bari. Per legge il controllo di traffico e sicurezza a carico dei privati, invece da noi paga il Comune, scrive il quotidiano di Bari. Concludiamo con il sole 24 ore e in apertura leggiamo. Fisco le novità per dipendenti e imprese, tredicesime detassate anche ai pensionati. L'attuazione della delega, le anticipazioni sui documenti elaborati dalle commissioni ministeriali, premi per le aziende che rientrano in Italia, smart working con sconti. Bene, finisce qui la nostra rassegna stampa. Vi ringraziamo per essere stati con noi da TRM Network. L'augurio di una buona giornata. Grazie.